Però ci sia qualcuno che abbia il coraggio di dire ma che cosa stiamo facendo? C'è anche Don Marco Polverari fra i residenti della zona di Tombaccia a Fano che hanno ricevuto una lettera da parte di Società Autostrade con l'avviso dell'esproprio dei terreni. Un provvedimento necessario per realizzare le opere accessorie alla terza corsia della 14. I lavori di un importo complessivo di 60 milioni di euro comprenderanno 7 chilometri di strade da Finila a Tombaccia, una quindicina di rotatori e due nuovi ponti, uno sul torrente Arzilla e l'altro sul fiume Metauro. La nuova careggiata che sarà di un'ampiezza di circa 12 metri passerà proprio sulla vigna del parroco della chiesa di San Marco. I lavori sono imminenti, potrebbero iniziare addirittura prima dell'estate e le infrastrutture saranno pronte entro il 2018. Ebbene diventerà una zona chiusa da un'ulteriore strada, quindi risulterà un triangolo tra sei strade. Dividerà le due zone di via Tombaccia, quella di via Metauriglia e quella di via Tombaccia, che sono un tutt'uno e hanno su questa strada, che diventerà difficile da accedere, gli unici piccoli servizi che hanno, perché hanno una piccola chiesa, un piccolo ambulatorio. Quindi sarà un danno certamente per l'intera collettività. Eh sì, perché qui, oltre ai polverari, Don Marco e suo padre, gli espropri riguardano altre dieci famiglie. Perché oggi? Perché adesso? Perché purtroppo prima nessuno ci ha ascoltati. Sette anni fa, spiega Don Marco, è stato presentato un ricorso al TAR contro il piano regolatore generale, ma ancora stanno attendendo l'esito. I residenti sono pronti quindi a chiedere una sospensiva degli espropri, ma questo non è l'unico ritardo. I cittadini lamentano il fatto che in passato non sono mai stati ascoltati e che la precedente amministrazione, definita insensibile, non abbia mai preso in considerazione un'alternativa a questi provvedimenti al percorso stabilito. Tutto a differenza della Giunta Seri. Il primo cittadino ha già avuto modo di incontrarli la scorsa settimana e a breve li convocherà di nuovo in municipio. La settimana scorsa il sindaco ci ha ascoltato, ha visto, ha vagliato e se nella stampa di ieri si diceva che il sindaco non ha rilasciato dichiarazioni è perché il sindaco sta pensando, questo ve lo assicuro, perché si è reso conto della realtà. L'amministrazione precedente ancora, quella di Aguzzi, perché questa è opera di Aguzzi, aveva l'amministrazione Carnaroli, aveva a suo tempo previsto l'uscita più amare di questa strada in un tragitto molto più corto, molto più breve, meno dispiandioso e soprattutto non abitativo che avrebbe prodotto lo stesso effetto. È una strada che probabilmente prenderanno quelli che vengono da quassù? Forse no, perché la prenderanno soltanto quelli che devono andare fuori Fano, ma quelli che devono andare in ospedale, alla stazione, al mercato del pesce continueranno a fare la stessa identica medesima strada. Una strada, tra virgolette, che potremmo dire quasi inutile nel suo insieme. Quello che serviva, serviva un ponte, un ponte che poteva in qualche maniera sbucare dalla parte, appunto, nostra, però non certamente portando la strada a questo livello. Il tempo però sta stringendo. Ieri, infatti, con grande stupore, hanno visto che l'aria interessata dalle opere è stata picchettata e i tecnici, da come ci hanno raccontato, sono intervenuti su questi terreni senza dir nulla ai proprietari. I residenti ora sperano che la Giunta possa far qualcosa, intanto il 19 e il 20 maggio avranno un incontro con Società Autostrade per l'accordo economico. Gli espropri si aggirano sui 10 milioni di euro, 7,50 euro al metro quadrato per i terreni agricoli e 50 euro per quelli edificabili. Ma il compenso è in denaro, non ripaga questa gente. L'ultimo passo di una corsa che può davvero rivelarsi una caduta. Per realizzare queste opere dovranno essere distrutti altri lavori che sono stati fatti pochi anni fa? Sì, praticamente i lavori che sono stati fatti quando è stata realizzata la terza corsia dell'autostrada dovranno essere parzialmente distrutti per poter permettere il passaggio di questa strada. Qui si produrranno degli sprechi dal punto di vista economico, oltre che al danno ovviamente alla zona. Insomma vi lamentate anche del metodo utilizzato? Ci lamentiamo del metodo sì, perché purtroppo non è la prima occasione che in questo territorio, al territorio sud del Metauro, viene sempre messo davanti al fatto compiuto. Parliamo del caso recente della Biogas ad esempio, così come di questa strada che hanno già detto i miei concittadini. Ci troviamo sempre davanti al fatto compiuto e dobbiamo sempre mettere in piedi i comitati, dobbiamo mettere in piedi i proteste, dobbiamo mettere in piedi cose che se fatte seriamente e interpellate nel momento giusto non ci sarebbe bisogno di fare. Forse se è un qualcosa di utile lo si potrebbe fare in maniera utile e in maniera che non danneggi nessuno. Anche lei è preoccupato? Moltissimo, perché io ho lottato tanto quando ho fatto la superstrada, perché avevo un pozzo di qua nell'autostrada e ho avuto dei problemi, ho avuto anche le spese e non sono stato rifatto delle spese, solo della terra. Oggi mi stanno provando di portarmi via il pozzo, oltre che ho lottato tanto mi portano via anche il pozzo. Ho chiesto voglio l'acqua, io loro mi metto l'acqua e l'avrai il pozzo di là, ma c'è l'acqua di là? Se non c'è l'acqua di là, io dove sono? Io a che punto mi trovo? Io ho una stalla, io ho un'aziendina, non è grossa, è piccolina, però c'è un'aziendina e c'è la stalla. Perché mi togliono l'acqua? Potevano fare meno di fare questa strada e a me mi danno dei grossi problemi. Adesso stiamo lottando, dicono l'avrai, l'avrai, l'avrò sicuro. Non abbiamo niente, praticamente si tolgono anche quel poco di serenità che abbiamo, perché non abbiamo un giardino. Quando siamo chiusi da tre strade non sappiamo neanche dove uscire di casa, insomma. Pagnetti, è anche lei coinvolto in questo provvedimento? Sì, purtroppo sì. Noi lo sapevamo da tempo che eravamo coinvolti, direttamente coinvolti, però finché non arriva l'esproprio non eravamo coscienti di quello che poteva, che verrà fatto. Abbiamo paura che ci sia anche dei problemi idrogeologici in questa zona, sia per quello che riguarda la mia abitazione, ma anche il resto. Noi abbiamo già fatto una lettera di risarcimento danni per la svalutazione della casa a società autostrade col primo progetto. Adesso col progetto definitivo cercheremo di usare le armi che abbiamo per avere un risarcimento più alto possibile, perché in alcuni casi, come nel nostro, la casa è invendibile, la casa ormai non ha più un valore perché è chiusa in una gabbia di ferro.